Al solito c'è sempre, quando si parla di numeri bisogna vedere a quale categoria di numeri ci si riferisce. Naturalmente se uno considera solo il tema IRPEF può anche dire che il beneficio arriva a un certo numero di cittadini italiani. Se uno mette assieme anche 4 conti sulle detrazioni e sull'IVA, che non va dimenticato, invece i conti cambiano. Allora se mettiamo tutto assieme, l'idea che i centi popolari ci guadagnino è un'idea che mostra dei limiti. Io ho trovato naturalmente dei punti anche di orientamento e di principio, ovviamente abbastanza fermi, però credo che dei margini per modificarla ragionando assieme io oggi li ho trovati anche in Grilli.